La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli carissimi, in questa santissima notte nella quale Gesù Cristo nostro Signore passò dalla morte alla vita, la Chiesa diffusa su tutta la terra chiama i Suoi figli a vegliare in preghiera. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla Sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Preghiamo. O Padre che per mezzo del Tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva della Tua gloria, benedici questo fuoco nuovo, fa che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo e ci guidino rinnovati nello Spirito alla festa dello splendore eterno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Cristo Per mezzo, ieri, oggi, principio e fine, alfa e omega, a Lui appartengono i secoli, a Lui la gloria e il potere per tutti i secoli in eterno. Amen. Amen. Per mezzo delle sue sante piaghe, gloriose. Per mezzo, ieri, oggi, a Lui. ci protegga e ci custodisca Il Cristo Signore. Signore, Amen. Grazie. 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 Grazie.